Eccoci qua ragazzi, bentornati, un bacio dal SIBE, oggi finalmente rieccoci qua, voglio portarvi un video che può essere vecchio ma dopo questa patch secondo me un po' vi aiuterà molto perché oggi vi voglio portare come la copertina, le impostazioni della mia visuale e delle impostazioni comandi che è diciamo essenziale perché le impostazioni dei comandi vanno fatte bene ma soprattutto bisogna mettere le giuste cose perché come dire se no si va a fare cazzate in game soprattutto nel modo di switchare il giocatore o comunque altre cose che vi mostrerò nel video in modo che tutto vi è più chiaro. Anche la visuale, io ho provato un po' tutte le visuali, mi sono trovato bene con questa che vi farò vedere però è giusto che vi faccio vedere un po' tutto in modo da farvi capire bene. Questa visuale secondo me è la migliore perché vedrete poi tutto il campo ma poi vi farò vedere il video in modo che capite il tutto. Io come sempre vi ricordo di lasciare qui sotto un bel commento, un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina ma non per me ma per voi per rimanere aggiornati su quando usciranno i miei video e niente se scorrete ancora un po' più giù ragazzi c'è il mio gruppo telegram dove se volete proprio voi potete entrare e siamo 600 o qualcosa dove ci aiutiamo tutti i giorni, ci chiediamo consigli, ci licchiamo le cose che possono uscire e ci diamo una mano tra di noi. Io vi auguro una buona visione, spero che questo video vi possa piacere, un bacio da Sive, bella guys. Ed eccoci qua ragazzi come vi ho annunciato nella intro, oggi vi mostro le mie impostazioni visuale della telecamera e anche un po' diciamo diverse cose come sono l'interfaccia in modo che non ci danno fastidio e in più vi mostrerò i miei comandi personalizzati in modo che vi possano aiutare nel gameplay ma soprattutto durante la partita dove diciamo alcuni tasti servono per difendere e anche per attaccare in modo più diciamo semplice. Allora detto tutto ciò andiamo su impostazioni, andiamo a impostazioni, impostazioni di gioco, incominciamo con la visuale, io mi trovo bene, ho provato un po' con tutte diciamo con la classica, dinamica, la tattica, la tradizionale ma alla fine la migliore è la co-op da mettere su visuale giocatore singolo perché come potete vedere nell'immagine a destra la schermata è molto ampia e l'inquadratura è ferma quindi non vi darà fastidio visivamente mentre voi giocate e poi giustamente andiamo su impostazioni visuali personalizzate, fate personalizza, io ho messo un'altezza di 20 cioè al massimo in modo che l'altezza del visuale sia il massimo in modo che io posso vedere tutti i giocatori in campo sia miei che dell'avversario in modo sia ad attaccare che difendere bene, sono andato a mettere uno zoom 0, focus in lontananza 0 in modo che mentre ci muoviamo non faccia il diciamo metà fuoco in modo che si avvicina, velocità in seguimento palla 0, zoom aria di rigore 10, zoom visuale professionista 10, velocità visuale professionista 10, oscillazione visuale 10, zoom tiro potente sì perché a me piace questa animazione però se a qualcuno dà fastidio quando si fa l'1 più r1 il tiro l'animazione dove si mette più fuoco il giocatore che sta per fare il tiro di potenza potete mettere di no in modo che non mi dà fastidio a me piace come animazione non mi dà tanto nel difendere non mi crea molti problemi io infatti ho deciso di lasciare così come video barra nome giocatore sull'interfaccia dimensione indicatore giocatore messo predefinita dissolvenza indicatore giocatore sì indicatore stile di gioco più sopra la testa sì però qui se avete dei problemi di lag io vi consiglio di toglierlo perché riduce la latenza indicatore cambio prossimo giocatore sì indicatore difficoltà in base al giocatore no mantieni per saltare sì mostra tempo risultato sì mostra info sì indicatore passaggi precisi sì indicatore tiri precisione sì radar 2d vi consiglio anche 3d che non è male io mi trovo bene col 2d però anche il 3d molto molto bello colore radar utento messo predefinita avversario predefinita indicatori di online dissolvenza tensione rete predefinita forma della rete predefinita trama della rete scori informazioni sì monitoraggio solo indicatore collegamento input in sovriprensione no informazione hyper motion sì widget prestazioni giocatore sì altre cose qua non ce n'è possiamo andare a vedere partita niente andiamo sui comandi ragazzi come comandi configurazione competitiva ve lo consiglio non andate a fare personalizzato perché non serve a nulla vi rimarrà tiri automatici no colpi di test assistiti no aiuto tiro assistito in modo che quando tiriamo il tiro andrà sempre in direzione della porta e quindi ci semplifica un po la la cosa finalizzazione a tempo sì per chi non se ricorda premi due volte cerchio quando calci in porta però ti avrà la finalizzazione a tempo praticamente voi tirate prima che il giocatore colpisca la palla c'è proprio come si dice l'esatto tempo in cui il calciatore colpisce voi dovete schiacciare di nuovo cerchi in modo che la finalizzazione tempo sia massima però anche se lo fate un pelino prima è quasi sempre verde e questo ve lo consiglio per essere un tiro sempre diciamo preciso al 100 per cento se non al 99 per cento passaggi elegante automatico rimane no aiuto passaggio filtrante semi passaggio filtrante altro semi aiuti passaggio raso terra assistito aiuto cross assistito aiuto passaggio alto assistito blocco ricevitore passaggio possiamo mettere tra inizio animazione potenza massimo tardi io vi dico sempre inizio animazione perché è la cosa più veloce sensibilità passaggio precisi normale poi andiamo in difesa rinvio automatici no aiuto rinvio direzionale direzionale cioè aiuto rinvio perché classico io non mi sono trovato bene direzionale invece in base a dove mi indirizzavo io il giocatore fa diciamo i rinvi molto molto più precisi a fronte rimane manuale difesa tanti vi consigliano avanzata o tattica io opto sempre per tattica perché mi trovo davvero bene avanzata diciamo che boh non lo so a me non è piaciuta tanto come difesa perché è molto molto più complicato infatti la difesa avanzata ti permette di scegliere liberamente il tipo di contrasto da effettuare premendo cerchio per eseguire un contrasto in piedi e premi per un contrasto di spallo per proteggere il pallone diciamo che se siete molto bravi andate sulla difesa avanzata però se siamo giocatori medi o forti o scarsi io direi difesa tattica in modo che ci aiuta molto aiuto intercettazione passaggi si cambio automatico solo sulle palle vaganti aiuto movimento cambio automatico nessuno cambio con la levetta destra classica riferimento cambio con la levetta destra in base alla palla sensibilità cambio la levetta destra ok qua io ho lasciato su 4 ma ho notato ultimamente con questa partita di mettere su 5 o addirittura sbilanciarsi sul 6 io opterei per il 5 lo sto cambiando adesso con voi perché ho notato che 4 è troppo lento cambio prossimo giocatore più vicino alla palla lo stavo provando e non mi sono trovato bene perché molte volte io voglio switchare un giocatore che voglio io per diciamo anticipare la mossa dell'avversario invece così devo switchare due o tre volte perché lui mi va a prendere sempre il giocatore più vicino al palla io vi consiglio classico in modo che lo selezionate voi il giocatore da prendere e fidatevi che davvero molto molto più facile difendere così perché voi volendo potete andare a prendere il difensore centrale mentre lui sta attaccando in centrocampo e coprire l'attaccante che parte invece con vicino alla palla non potete perché lui vi switcha il giocatore in centrocampo praticamente aggancia giocatore no cambio icona no dribbling contestuale vi lascio su no orbital no portiere aiuto parato e semi scatto analogico no perché vuol dire che come si dice più più dovete premere r2 più il giocatore corre la veloce invece basta che premete una volta r2 e il giocatore corre già la sua massima velocità quindi io vi consiglio di lasciare no effetto grilletto a me fastidio che il grilletto diventa un po più duro io parlo per il giocatore di ps5 feedback feedback vibrazioni utente no perché è odiosa la vibrazione almeno per me poi c'è chi si trova bene e c'è invece chi lo odia io vi consiglio di mettere tutte queste tre impostazioni no in modo da essere più tranquilli poi il video finisce qui ragazzi io spero che queste piccole impostazioni che non sono uguali agli altri perché diciamo un po noioso fare tutti la stessa cosa secondo me bisogna sempre trovare dei compromessi che vadano bene alla community io spero che questa visita soprattutto la visuale vi possa piacere perché vi farà vedere modo un po più ampio il campo e giocare un po più sereni perché vedete tutti i giocatori e vi aiuterà molto ad attaccare a difendere in modo tranquilli io come sempre vi ringrazio per il vostro supporto spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo sempre per favore di lasciare un like un bel commento se questo video è stato interessante per voi ma soprattutto ragazzi non dimenticate di attivare la campanella in modo da essere sempre diciamo informati per primi quando esce un video nuovo mio perché oltre a questi video io a breve caricherò altri video sulla compravendita dove chi prima arriva prima gode perché se si arriva troppo tardi si rischia che non si riesce più a comprare nulla e niente ragazzi vi ricordo sempre che sotto c'è il mio gruppo telegram dove se volete potete lasciare un bel like e entrare dentro e niente io vi auguro un buon weekend perché siamo sabato e ci vediamo alla prossima un bacio dal sibe bella ragazzi